dove sei partito e dove vuoi arrivare io volevo giro italia tutta italia per andare a piedi a piedi e questo io volevo a vecina con un draghetto perché questo viaggio ecco con i somarelli vacanza sono pensionata vado cellulare non macchina niente volevo solo andare a piedi con lasini tutta italia ecco ogni giorno quanto chilometri fai al giorno 15 massimo 20 e loro come si come per mangiare per alcuni mangiare acqua e quando è possibile fieno hai conosciuto un po la calabria sì come la gente calabrese espitale diciamo bello tutti italiani italiani a gentile ora stai traghettando per andare a messina si è chiaro adesso ok numero 2 Antonio arrivederci Antonio